Sono Maria Grazia Fadda di Nuriana Technologies, l'innovazione di quest'anno è una piattaforma di multisensor data fusion per il monitoraggio e il tracking di detriti spaziali. Il problema dei detriti spaziali ormai è un problema abbastanza reale, basti pensare che la collisione con un frammento di un centimetro causa la stessa forza, provoca gli stessi effetti di una granata. Per questo motivo Nuriana Technologies ha deciso di implementare un sistema che attraverso l'integrazione di sensori data e ottici permetta appunto di monitorare e creare anche un catalogo di quelle che sono le orbite della cosiddetta spazzatura spaziale.